E' arrivata dunque ora la notizia, e beh, quello che avevamo previsto è accaduto a Cerbi, assolto dalle accuse di razzismo, non c'è nessuna prova, dunque quella televisiva non è sufficiente. Tutto questo è accaduto nel giorno del no al razzismo, quando a Cerbi aveva detto una frase che a suo dire era ti faccio nero, dall'altra parte il ragazzo aveva fatto fermare la partita perché aveva sentito un'altra frase, beh, che cosa dire, se non che come si risolvono le cose in Italia non si risolvono da nessuna parte. Ci sono voluti i giorni e alla fine tutto finisce come finisce in Italia. A Taralluccio e Vino, ciao!